Proviamo ancora ad esplorare, siamo alla linea 39, ad esplorare questo concetto che abbiamo appena toccato con la lettereria Fesini. Se non erro, non vi ho messo la citazione, ma dovrebbe essere Colossesi questa qui. Scelti da Dio, quindi noi qui non c'entriamo per niente. Lui ha scelto, poteva scegliere altri, ha scelto me, ha scelto te. Eclectoi. Poi, agioi. Santi. E noi sappiamo che in questo caso santo vuol dire pieno di vita. Non ce la siamo data. Questa vita che Dio ci dà è un dono. La scelta è un dono. Essere santi è un dono. E gap è meno, linea B, seconda parola. Amati. Ma essere amati è un dono. Tu non puoi fare come Guglielmo II, re di Prussia che ha preso il contadino per il Bavaro e gli ha detto amami. Urca. L'amore non si crea, o c'è o non c'è, è buonanotte. Ci può essere la simpatia, la cordialità, questo sì. Ma l'amore, se non c'è, non esiste. Punto. Invece noi siamo stati fatti destinatari di questo amore da parte di Dio. Che qualità avevamo? Boh. Noi non abbiamo comperato questo amore. Quindi, scelti da Dio gratis. Riempiti di vita gratis. Amati gratis. Rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza. Wow. Di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità. Tutte queste belle cose, che in italiano trovate, lettera B, C, E, D, derivano da questa esperienza che noi facciamo. Di essere scelti, santi e amati. Dunque, quando uno fa questa esperienza, questo dunque è tremendo, noi possiamo benissimo avere atteggiamenti, non esattamente sentimenti. Atteggiamenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine e di magnanimità verso gli altri. Ma se noi non ricuperiamo questi tre elementi iniziali della lettera A, tutto il resto, se c'è, è puro volontarismo. E il volontarismo non dura. Qual è la prima ricaduta di coloro che hanno questa esperienza di sentirsi scelti da Dio, santi e amati? La prima ricaduta è avere dentro di sé questi atteggiamenti di tenerezza, bontà, umiltà, mansuetudine e magnanimità. E il risultato concreto, quello fuori di noi, la sopportazione. sopportando via vicenda. Il che vuol dire che a Colossi la vita non era facile, perché anche a Colossi siamo in una situazione come quella di Cordenons, dove le cose si dicono a muso duro, senza tante circonlocuzioni. E questo non sempre è piacevole. E allora Paolo, meglio il discepolo che scrive su invito di Paolo, dice che la cosa concreta è la sopportazione, ed è il perdono. Sopportando via vicenda e perdonandovi, se notate la lettera A, ultima parola, ha sempre il verbo della gratuità. Carizomenoi, carizzo, caris. Se qualcuno avesse di che lamentarsi, ne riguarda di un altro. E poi, la parola magica, la lettera H. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. E' interessante. L'abbiamo trovato prima, lo troviamo adesso, questo catos. Ed è su questo come che si fonda tutta la morale di Paolo. Tutta. Non esiste nessuna raccomandazione morale che Paolo faccia e che non si fondi su questo come. Ma la cosa interessante è che questo come non è fondato su un'idea che tu ti sei fatto di Cristo, ma sulla tua esperienza. Se noi traduciamo, dobbiamo dire che il momento della giornata che noi dedichiamo a fare un bilancio della giornata per vedere che tipo di esperienza di Dio abbiamo fatto, quella è la fonte della nostra morale. Non i manuali scritti dall'autore X e neanche dal Papa. La vera fonte della morale è la tua poltrona dove tu ritorni con pazienza tutte le sere nella tua giornata, cerchi di fare un bilancio, cerchi di capire ed è lì che tu hai il pozzo di Giacobbe, cioè la fonte per poterti comportare così, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri se qualcuno avesse di che lamentarsi nel riguardo di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma se tu nella vita non hai l'esperienza di questo perdono ricevuto gratis, coi corni che tu perdoni. Coi corni che tu hai atteggiamenti di bontà, di umiltà, di massuetudine, di tenerezza, di magnanimità. Perché non sai come attuarli. Hai paura di essere preso in giro, hai paura di essere buonista e il pericolo c'è. Se tu invece vedi la tua esperienza ci ritorni sopra con la memoria, la ripercorri, cerchi di comprenderne la portata, allora hai la misura di sapere come comportarti. voi dite, ma se Dio perdona io devo perdonare. Sì, Dio perdona, ma aspetta un momento. Quando noi parliamo del perdono di Dio siamo anche un pochettino ingenuoti, perché noi abbiamo certi medaglioni evangelici davanti e ci fermiamo lì. Ma la parola di Dio incomincia dalla Genesi e finisce nell'Apocalisse. La parola di Dio non sono i quattro evangeli soltanto. Nel libro della Sapienza ci sono due o tre riflessioni che ci fanno pensare. Quando l'uomo sbaglia, Dio corregge. Poi ti perdona. E quindi questi medaglioni neotestamentari vanno coniugati con questi medaglioni sapienziali. Non è il perdono del nonno. Il perdono di Dio è un perdono pedagogico. Dio è dalla tua parte. Dio ti perdona ma prima ti fa un discorsetto e non te lo fa facendoti sedere, facendoti ragionare con le parole. Ti fa ragionare con i fatti. La correzione di Dio avviene nei fatti. E dopo che lui ti ha lanciato questo messaggio di correzione ti perdona. Quindi il perdono di Dio non è facile, non è una soluzione che avviene in venti secondi. Io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del padre e del figlio. Non è questo. È in qualche cosa di più elaborato il perdono di Dio. Ecco perché tu ne fai esperienza. Non è in qualche cosa che passa velocemente, è in qualche cosa che si incide sulla tua pelle perché la correzione non è una cosa facile né farla né subirla. bene andiamo ancora un po' più avanti la comunità di Roma siamo la linea 45 il quarto esempio che vi porto la comunità di Roma è una comunità un pochettino complessa quando noi pensiamo la comunità di Roma noi pensiamo ai romani convertiti al cristianesimo erano pochi la parte più cospicua di questa comunità erano commercianti ebrei che vivevano a Roma e si erano convertiti al cristianesimo e quando l'imperatore Claudio verso il 41 spedisce fuori dai piedi per la prima volta gli ebrei da Roma fa di ogni erba un fascio perché lui non riusciva a distinguerli perché facevano baruffa su Gesù gli ebrei o cristiani dicevano è il messia e agli altri proprio non interessava un caesar e quindi patapanf e Claudio ti spedisce via tra questi si trovano due amici di Paolo Aquila e Priscilla che poi Paolo troverà in Oriente dunque abbiamo una comunità mista una comunità che potremmo chiamare europea mista a Levantini più o meno come siamo in Italia oggi quella volta a livello di piccola comunità cristiana di Roma oggi in Italia e non è facile né allora né oggi accettarsi linea 48 accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi per la gloria di Dio wow fino a quando noi diciamo come Cristo come anche Cristo accolse voi punto qualcosa capiamo ma per la gloria di Dio ci fa cadere le orecchie cosa intendeva dire Paolo ecco questa espressione paolina ha una duplice valenza ha due significati e Paolo di proposito l'ha voluta mettere qui con questa forma letteraria la prima valenza è questa l'accoglienza degli altri gli ebrei che accolgono i romani i romani che accolgono gli ebrei tutti i due cristiani è un atto di culto ma noi andiamo a messa non serve niente primo atto di culto lo si fa nella vita e se questo atto di culto lo compite nella vita ha senso anche il resto se no no perché le cose stanno così mi pare di essere al catechismo che cos'è la messa la domanda più innocua di questo mondo e noi cristiani non tutti meno male facciamo fatica a rispondere la messa è la presenza della morte e risurrezione di Cristo chiaro? adesso parliamo in difficile è l'anamnesi del mistero pasquale wow è molto più facile dire è la presenza della morte e della risurrezione di Gesù questa è la messa solo che non viene fatta come una recita teatrale ma viene fatta attraverso il mistero della parola e il segno sacramentale però questo è il valore di quella celebrazione è una cosa seria non è un rito è una celebrazione Paolo aveva già dato quattro sganassoni ai corinti proprio a proposito di questo dato perché dice Santa Maria voi quando celebrate l'Eucaristia fate l'anamnesi di una persona che non è morto per sé è morto per gli altri cioè ha dato tutto se stesso agli altri questo individuo che muore e risorge è l'individuo che ha incarnato il dono totale e voi non siete neanche capaci di donarvi reciprocamente un po' di polenta e un po' di formaggio perché i corinti cenavano facendo la messa cenavano e durante la messa ognuno mangiava quello che aveva portato da casa ma i poveri non avevano portato niente perché non c'era niente da portare e Paolo dice perché non condividere se state celebrando uno che è dono totale di sé agli altri tu non sei capace di donare metà della tua cena all'altro perché tu ce l'hai lui no e da quella volta siamo verso il 56 dopo Cristo nelle comunità greche di Paolo non si fa più la cena si celebra l'Eucaristia senza la cena e noi continuiamo ancora oggi a fare la stessa cosa solo che abbiamo sbagliato orario perché celebriamo la messa la mattina beati li invitati alla cena del Signore dillo tu alle 6 di mattino dunque il criterio è questo se il dono tu lo celebri a livello di espressione massima l'accoglienza fa parte di un dono e quindi se tu ebreo accogli il romano cristiano tu romano cristiano accogli l'ebreo cristiano allora questo diventa atto di culto perché tu stai ripetendo in miniatura quell'accettazione che Cristo ha avuto nei confronti di tutti gli uomini quando lui ha donato se stesso per tutti gli ha accolti per quello che erano tutti nessuno escluso e quindi per la gloria di Dio significherebbe questo ma poi c'è anche un altro significato questo lo sapete già penso se lo ricordiamo e cioè la cabot ebraica tradotto con doxa greco gloria latino indica l'esperienza di Dio che tu puoi fare l'accolto fa esperienza di Dio e quindi dice Paolo se voi vi accogliete reciprocamente tu romano cristiano accogli l'ebreo l'ebreo si sente accolto sta facendo l'esperienza di un'accoglienza come Dio lo ha accolto tu lo accogli viceversa tu ebreo cristiano accogliendo il romano cristiano fai fare al romano cristiano un'esperienza mignon di essere accolto e questo essere accolto da Dio lui lo sperimenta anche attraverso questa accoglienza che tu ebreo cristiano eserciti nei suoi confronti adesso che ci è più chiaro comprendiamo meglio cosa significa accoglietevi perciò gli uni agli altri come anche Cristo accolse voi per la gloria di Dio come atto di culto e come esperienza di Dio bene ancora due minuti poi facciamo la nostra santa pausa questa accoglienza che Paolo traduce in questo modo mettendo alla linea 47 quel catos e ponendo Cristo come modello di accoglienza Paolo pesca questa esemplificazione dalla linea 55 ma la linea 55 riporta un brano di Gesù del capitolo 25 di Matteo allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra venite benedetti del padre mio ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo perché ho avuto fame e mi mi avete dato da mangiare ho avuto sete e mi avete dato da bere ero straniero e mi avete accolto nudo e mi avete vestito malato e mi avete visitato facciamo venire tutti gli africani in Italia capite che è ridicolo certamente le leggi italiane devono essere applicate perché sono delle leggi discretamente buone il non applicarle sarebbe un grosso guaio ma qui Paolo sta parlando di un atteggiamento non sta parlando di un'esecuzione meccanica l'Italia è piccolina c'è gente in quantità e questa è la rovina e non si può campare vei che canzone napoletana se questo è il dato allora l'accolienza per noi sarà fare in modo che nessuno muoia in mare questa è l'accolienza che nessuno muoia in mare dopodiché mi spiego sono le nostre leggi ma non deve morire nessuno l'accolienza di cui parla Bergoglio è fondamentalmente questa nessuno più muoia in mare dopodiché la Francia si beccherà le sue quote l'Austria si beccherà le sue quote la Germania la UE ha le sue leggi qualcuno le deve pur far mettere in pratica la Grecia non può adossarsi tutto l'Italia non può adossarsi tutto anche perché se prendiamo tutti gli abitanti africani e tutti gli abitanti chiamiamoli così dell'area araba non ci stiamo neanche in piedi capite che ridicolizzare alcuni concetti che Bergoglio propone significa essere stupidi ciò che Bergoglio interessa è la vita umana questa non si può stracciare la vita umana va protetta Paolo dunque qui non fa questioni giuridico politiche come quelle che abbiamo noi oggi ma parla di un atteggiamento e l'atteggiamento lo si pesca lì nella tua esperienza come tu sei stato accolto da Cristo questo che tu hai ricevuto lo trasmetti Gesù ne ha parlato e ha parlato nel modo che abbiamo visto caffettino